Insieme a alcune aziende di vendita d'energia e alcune associazioni dei consumatori stiamo portando avanti come accompagnare il processo di transizione dal mercato tutelato al mercato libero. Noi come associazioni dei consumatori ovviamente auguriamo che ci siano benefici prima di tutto sul costo della bolletta elettrica che è già la più cara d'Europa ma anche che ci siano le garanzie necessarie perché fino ad oggi il mercato è stato appunto garantito dal sistema precedente oggi che siamo nella liberalizzazione ci auguriamo che tutti gli operatori diano le garanzie di solvibilità purtroppo ai noi non è stato così per alcuni noi stiamo lavorando sia sul piano istituzionale attraverso le audizioni alle commissioni parlamentari, all'autorità con alcuni suggerimenti alcune cose che andrebbero in qualche maniera attenzionate insieme alle aziende, quelle aziende serie e credibili possiamo accompagnare questo processo e orientare al meglio i consumatori finali.